La presenza di noi imprenditori della provincia di Varese, soprattutto Food, lo ritengo positivo, assolutamente positivo, perché da una parte abbiamo consolidato e rafforzato i rapporti con l'Australia, il motivo principale per cui noi eravamo qui, perché facciamo parte di questo progetto più ampio che è iniziato con i rapporti instaurati con il mondo australiano. Abbiamo infatti avuto la possibilità di conoscere personalmente chi si va ero australiani, quindi di scambiare due chiacchiere, di far ritrovare un'altra volta anche i nostri prodotti, quindi di rafforzare la nostra posizione con l'Australia. Dall'altra parte, cosa importantissima, abbiamo avuto invece l'ulteriore possibilità di rimetterci in gioco un'altra volta, di riposizionarci sui mercati ezzili, sul mercato nazionale e di dare visibilità ancora una volta a noi imprenditori e soprattutto ai nostri prodotti. Quindi direi che il bilancio è stato assolutamente positivo. Per quanto mi riguarda personalmente, che sono la titolare di un caseificio Norden della provincia di Varese, anche in questo caso devo dire che il bilancio è positivo, perché io ho notato che l'operatore che abbiamo incontrato in questi giorni a tutto fuoco erano operatori che cercavano un prodotto di qualità, una qualità alta e quindi i nostri prodotti, che sono prodotti artigianali fatti con le mani, sono stati molto apprezzati. Grazie. 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 Grazie.